Numeroso pubblico ha assistito alla conferenza dibattito Tangentopoli e crisi dei partiti che si è tenuta nella sala del Circo L'Unione Teatro del Popolo ad Adria ed è organizzata dal Forum Progressista. Il benvenuto è stato dato dal dottor Luigino Motteran, presidente del Circo L'Unione, la parola è passata ad Ante Bordin, coordinatore di Forum, che ha riradito l'importanza e l'attualità dell'argomento. Il pretore di Adria, Giuseppe Silvestre, moderatore del dibattito, ha detto che i partiti stanno attraversando un momento di crisi di identità e devono prendere importanti decisioni vista la situazione di precarietà in cui si trovano. Questa crisi, affermato, rappresenta un elemento di consapevolezza sul ruolo dei cittadini. L'avvocato Raffaele Micucci ha sottolineato l'importanza della caduta dei regimi dell'Est, che hanno posto problematiche nazionali ed internazionali. La crisi della politica italiana richiede soluzioni politiche demandate a uomini politici. La magistratura deve svolgere i suoi iteri in piena autonomia e senza protagonismi. È necessario, afferma Micucci, creare una forza alternativa a quella che governa. La stampa deve dare un messaggio al popolo italiano e la speranza in un rinnovamento. L'avvocato Luigi Migliorini ha affrontato il tema con torni anedottistici, ironici. L'Italia sta vivendo un secondo rinascimento, un illuminismo. L'avviso di garanzia rappresenta una condanna di natura politica per i politici. Ha ricordato inoltre il numero abnorme di parlamentari, 200, titolari di avvisi di garanzia. Infine Gian Paolo Schiesaro, magistrato, segretario regionale dell'Associazione Magistratura Democratica, ha auspicato una Repubblica dei cittadini, dove della politica sia protagonista la gente. Ha firmato che il sistema giudiziario è lo stremo per una mancanza soprattutto di riforme slittate da tempo. Durissime le accuse all'ex ministro di grazia e giustizia, Claudio Martelli. Non è democratico un paese che non opera giustizia, ha ribadito. Il preto Schiesaro ha poi ricordato in molti scatali che hanno coinvolto il nostro paese, i processi, le troppe stragi. La conclusione è stata affidata al professor Gianni Ferro, il quale ha detto che la politica va supportata da correttezza e veri valori. È seguito un acceso dibattito con il pubblico. Un gruppo di studenti di archività...